Il mio lavoro è smart working, pochissime ore al giorno. I strumenti che utilizzo per lavorare sono un telefono, il computer, l'iPad e i social principalmente. Prima cosa che faccio è mettere Whatsapp web perché mi è comodissimo. La mattina presto appena sveglia vado a mandare un messaggio alle mie capogruppo. Sono le collaboratrici che mi aiutano a gestire tutto il team di 300 ragazze che lavora appunto da casa. Scrivendo loro cosa dobbiamo fare durante la giornata. Quindi poche azioni che però ci assicurano poi dei risultati. Un gruppo chiuso in cui posso pubblicare solo io altrimenti si creerebbe troppa confusione. Loro non appena ascoltano i miei audio o guardano i miei messaggi mi mettono una reazione per farmi capire che hanno letto e appunto che stanno lavorando. Perché come mi organizzo io il lavoro e smart working così se lo organizzano loro senza alcun tipo di vincolo orario. L'importante è che alla fine della giornata poi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Dopo aver mandato la to do list con le mie collaboratrici mi sento in privato perché comunque facciamo un affiancamento digitale giornaliero. E soprattutto andiamo a risolvere eventuali problematiche. Seconda cosa che faccio è andare ad affiancare il team di consulenti. Sarebbero le ragazze che hanno iniziato la nostra attività per guadagnare qualche extra comodamente da casa in pochissimi minuti al giorno. Perché loro hanno un gruppo whatsapp chiuso in cui vado a mandare tutto il lavoro da effettuare. Quindi loro davvero hanno il lavoro pronto. Basterà solo seguire le indicazioni che mando e riceveranno subito gli ordini. Poi mi occupo di tutta la parte social quindi programmo storie, contenuti. E soprattutto io le collaboratrici iniziamo a rispondere a tutte le richieste di informazioni che ci fate sul nostro lavoro. Pronto.